Un felice sabato a tutti voi da Marcus, buon fine settimana, eccoci qua per una nuova classifica del 90, questa mattina ho avuto da fare e non ho potuto fare il video in tempo, quindi lo faccio adesso, quindi con i suoi dovuti accorgimenti e tutto quanto, rivedremo gli schemi, il 90 è arrivato a Bari, avete visto, quindi c'erano tre ambate contate, una, poi due e poi la terza, quella del Firenze che puntava Venezia a Bari, avevo detto e ripeto ancora una volta che Venezia era la tardiva, Bari ne prendeva il merito anche con la Spia 51, quindi non solo il ritardo del Venezia che dava maggiormente a Bari, ma poi Bari la Spia 51 grazie all'8++ che ha confermato il 90 a Bari, adesso gli ultimi schemi, vado veloce veloce, questo era lo schema del 24 settembre, siamo sempre a settembre, quindi il 90 di Milano puntava Cagliari-Torino, avevo messo la ruota di Cagliari, vi ricordate, ma giungo anche adesso la ruota di Torino, perché ci sono dei accorgimenti particolari, che adesso non vi sto a dire, ma che sembrerebbe che il Torino, anche se lievemente più tardiva di Cagliari e di Firenze, perché l'ultimi schemi che andremo a vederci è anche di mezzo Firenze, però dato che questo è un accorgimento prima di quello di Firenze, ovviamente do la precedenza a questa, quindi Cagliari e Torino, veramente sono in difficoltà se scegliere fra Cagliari e, scusate, se Torino e Firenze. Guardate qua, ultimi schemi, allora il 90 arriva a Bari, guardate come si condiziona, quindi il 90 arriva sulla ruota di Roma e Firenze, quindi, e poi qua sotto è da considerare adesso questo 90 di Roma, quindi non solo arriva a Bari, ma arriva anche a Roma, quindi questi due 90 vanno calcolati con l'ammato contata. Il Bari, come vi ripeto, Roma e Firenze, Roma ha già dato, vedete, eccolo qua, quindi punta Firenze, in teoria sarebbe da aggiungere la ruota di Firenze, ma dato che c'era questa affluenza prima del Firenze, probabilmente, e ci sono tre accorgimenti, e in più ci sono quattro spie, quattro spie che vanno su Torino, ecco perché scelgo la ruota di Torino, quindi abbiamo quattro spie qua, a differenza di Firenze che ne ha meno, e porterebbero il Torino, e quindi attenzione, questo Cagliari-Torino non solo è uscito Torino a tempo fa, ma questo Milano fa di nuovo ripiazzare Torino. Cagliari e Torino, le due ruote, quindi metterò Torino questa volta, vedete, questo del Roma invece, guardate come si condiziona, va a finire a Milano, Milano ha già dato, ma ecco che riprende Napoli, quindi Napoli riceve tre ambate contate, come quello del Bari-Venezia, quindi poi avete visto che ha dato a Bari questo 9, guardate qua di Torino, riscende a Venezia e Bari può far girare il 90 a Venezia, quindi nella classifica integrale del 90 il Venezia, volevo toglierla, ma questo 9, attenzione, può far arrivare il 90 a Venezia, il 90 a Venezia in ritardo è frequente, molto frequente come il Palermo, ma è in ritardo, questo 9 dovrebbe far aprire la porta al 90 a Venezia, quindi la classifica integrale del 90 vede Torino, Venezia, Cagliari e Napoli, adesso le rivedremo solo in un unico schema, guardate qua, ecco lo schema finale, quindi Cagliari, vedete, poi Napoli, che è quella dove vi va la matta contata, quindi Cagliari e Napoli, Torino, segnalato Torino e lasciamo Venezia, quindi questa è la classifica finale del 90, guardate qua, quindi diretto diretto, questa è la classifica finale, vi dico, questo Firenze però, vedete, guardate qua, questo 90 di Bari potrebbe, potrebbe far scaturire il Firenze, adesso vediamo, se uscisse fuori il Torino, allora probabilmente poi reintegreremo, poi dopo Torino, o vedere cosa esce questa sera, quindi dipende se stasera ho le prossime estrazioni, quale 90 uscirà sulle ruote che vi ho appena detto, quindi Cagliari, Napoli, Torino e Venezia, quindi una delle quattro, le prime che saltano fuori, poi vedremo se integrare il Firenze, andrebbe già integrato subito con questa condizione, però come vi dicevo, prima c'è il Torino, perché ci sono ben quattro spie, guardate qua, lo andremo a vedere adesso subito con studio spie simpatici, andiamo su Torino e andiamo sul 90 e guardate qua quante spie accese ci sono, c'è l'1, il 12, il 26, sono usciti questi, il 57, il 69, il 78, passa quella con la moto benissimo, sentite, meglio di così, abbiamo il 69, il 78 e l'81, ragazzi questi numeri sono usciti praticamente quasi tutti, quindi la Torino riceve 5 o 4 o 5 spie accese, ed è per questo che scelgo Torino, quindi non solo arriva prima la condizione del Torino, che sarebbe questa, andiamo a rivederla, vedete, allora questa è quella del Torino, vedete, Cagliari-Torino, quindi Cagliari la lascio e integro Torino, perché Torino ha addirittura 5 spie accese, sono quasi tutte, penso che ne manchi uno, adesso non mi ricordo bene se è il 78 o il 26, ma penso che tutti questi numeri Torino siano usciti, adesso per farvi vedere stringo il tutto nel video, quindi non sto per farvi vedere tutto, e quindi attenzione, Torino, classifica finale, quindi la do per questa, e ricordiamoci il Napoli, guardate la prima posizione, la più forte, poi in parte la quarta, quindi classifica finale, Cagliari-Napoli-Torino-Venezia, Cagliari-Napoli-Torino-Venezia, con un po' di magone per Firenze, che non vorrei che uscisse stasera il Firenze, però Cagliari-Napoli-Torino, per me la Torino meglio per adesso del Firenze, quindi queste tre ruote primarie, la Venezia rimane sempre quella tardiva, ma inserita perché comunque c'è nella classifica integrale, quindi Cagliari-Napoli-Torino-Venezia, Cagliari in teoria probabilmente la quinta posizione, giocate sempre, chi è amante del 90, la posizione semplice, ve l'ho sempre detto, ma perché giocate solo la posizione più forte? giocate un euro qui, per dire sulla quinta posizione, e 3-4 euro, per dire su Cagliari, l'ambata semplice, perché l'ambata semplice vi va a beccare, insomma, la vincita, quindi più su l'ambata semplice, meno su l'ambata in posizione, no? Quindi Cagliari la quinta posizione, Napoli la prima posizione, Torino la seconda posizione, Venezia la quarta posizione, queste sono le posizioni più forti, e poi come strato semplice, ma lo strato semplice, anche un euro, ma mettetecelo, no? Sono 10 euro, vabbè, gioco questa sera e ho beccato 10 euro, però metteteci qualcosa, per coloro che sono appassionati di questa tecnica, cioè per quanto riguarda del 90, quindi chi è appassionato del 90, eccola qua, la classifica è questa, ma mettete sempre l'estratto semplice, poi vi voglio farvi vedere una cosa, per quello vi dico, attenzione adesso a Genova anche, con il 56, ve l'avevo detto che questo 80 ritornava a Genova, Milano, Napoli, guardate, questa è la nazionale, i primi tre stratti della nazionale vanno su Genova, Milano e Napoli, c'è anche di mezzo il 56 che ci ritorniamo, il 56 il primo estratto di Firenze va a finire a Genova, quindi questo 56 ha anche l'ambata contata, 55 e 56, quindi 56 primo estratto di Firenze va a Genova, 56 in abata contata va a Genova, 56 dalla nazionale va a Genova, Milano e Napoli, e la frequenza della cinquantina ritardiva, quindi in ritardo, sono sulle 57-58 estrazioni, 57 credo, quindi proviamoci ancora questa sera, pochi euro, poi vi faccio vedere la previsione per intero su Genova, guardate qua, 80, quindi 1, 2, guardate, in due colpi arriva a Napoli, e poi guardate di nuovo, questo 80 di nuovo Milano-Napoli, quindi non è finita, proviamoci ancora questa sera, ve lo dico, l'80 lo porterà ancora qualche colpo fino a martedì prossimo, per l'80 di Milano, con i suoi, perché guardate che, questo 80 ritorna di nuovo Napoli-Milano, questo 80 ha dato Milano, a Napoli, quindi adesso vedete che, e poi c'è la spia per Milano, andremo a vederla, di nuovo, attenzione, come il 90 si fa vedere, se non sbaglio, 37 a Milano, eccolo qua, se non sbaglio, doveva essere, no, 73, scusate, 73 di Milano dovrebbe portare l'80, poi guardate, in conseguenza c'è l'80 di Vari, che va a finire Milano-Napoli, poi di nuovo l'80 che ritorna, Milano-Napoli, quindi attenzione, attenzione a queste cose, allora, come vi dicevo, il 56, guardate qua, quindi l'80 va a finire su Milano, Genova-Milano-Napoli, ed è arrivato a Napoli, guardate qua, poi, se mettiamo il 56, vedete, il 56, eccolo qua, ritorna Genova-Milano-Napoli, quindi questo 56 abbiamo, guardate qua, mettiamo il 56 anche di qua, per imprimirmi bene quello che vi sto dicendo, 56 va a finire Genova-Milano-Napoli, guardate qua, siamo a 1 e 2, questo 56 di Firenze va a finire Genova e Palermo, Palermo ha già dato il 56, il 56 della tecnica Firenze-Genova, il primo estratto di Firenze in teoria dovrebbe andare a 78-80%, se non 89% a Genova, quindi abbiamo la tecnica del Firenze, il primo estratto che va a finire Genova, il 56 con l'ambata contata, il 56 della nazionale, e abbiamo anche la frequenza che è arrivata a 50 e oltre, della statistica, e poi dovrebbe spararlo, quindi attenzione, abbiamo 4 accorgimenti per il 56 di Genova, la previsione su Genova rimane sempre questa, tentare ancora questa sera, 56-30, 56-46, 56-47, 56-49, questi sono gli abbinamenti per il 56 a Genova, quindi, previsione ancora consigliata per questa sera, terzo colpo, vedremo se questi 4 accorgimenti faranno esplodere il 56 a Genova, poi lo consiglio ancora per 2-3 colpi, chi vorrà continuarlo, io da lunedì non so se lasciare la classifica integrale del 90 e mettono una nuova, ma vedremo, perché questa è una previsione che secondo me va continuata ancora per qualche colpo, il 56 questa sera siamo a 3 colpi, ripresa, questa è una previsione ripresa, perché questa l'avevo fatto giocare fino a 9 colpi, ora che mi sono ricordato, non ce l'ho qua sul foglio, ce l'ho qua davanti, 9 colpi l'avevo fatto giocare, poi c'è stato un lasso di tempo di 2 mesi quasi, e adesso questo 56 sembrerebbe che possa ritornare su Genova, attenzione, 2 di ambo, 1 di eterno, 1 di quatterno, pochi centesimi sulla cinquina, si può giocare anche con 2-3 euro questa previsione, non è che dovete giocare 2-3 euro di ambo e vi ammazzate, questa si può fare la lunghetta intera, oppure fare 4 ammi secchi, io ho messo anche l'ambetto, poi li vedete voi, quindi questa è una previsione che secondo me su Genova dovrebbe adempiersi con il 56, seconda e terza posizione, la seconda su Genova è la più forte, poi passato a questo accorgimento, l'ultima occasione anche per l'80 di Milano, eccola qua, allora per Milano i soliti abbinamenti, 80-14, 80-15, 80-18, quell'80 avete visto preceduto dal 73, speriamo bene, per Milano dovrebbe far uscire il 73, dovrebbe far aprire la porta all'80 di Milano, quindi l'80 ritorna a Milano, dovrebbe ritornare a Milano, anche perché, scusate facciamo del casino, dov'è dov'è, mettiamo di nuovo l'80, questo 80 del Bari, vedete, questo 80 del Bari ritorna Napoli-Milano, Napoli è già dato, rimane come il 90 uguale, quindi attenzione eh, Milano-Napoli, e quindi questo 80 che va a finire di Bari, Milano-Napoli, quindi Napoli è già dato, in teoria dovrebbe rimanere solo Milano, guardate ancora una volta, quella, quello schema che vi avevo fatto vedere, riguardante al Cagliari-Torino, guardate, la situazione a Tenaglia, che poi ha portato, l'80 su Cagliari, vedete, quindi, dopo quanti colpi è arrivato l'80, ve lo faccio rivedere, vedete, Genova e Palermo, questa è la condizione che si era riproposta, questa è la matta contata, mi raccomando, non scordatelo mai, ruote gemelle, che vanno a finire, proprio anche su ruote gemelle, quindi, è bellissima condizione, perché 2,80, isotopi, su due ruote gemelle, quindi, uno andava su Torino, e uno andava su Cagliari, ecco che dopo, guardiamo un pochettino, 1, 2 e 3 colpi, arriva l'80 Cagliari, vedete, è pure in posizione, ecco, quindi attenzione adesso, quest'80, Milano-Napoli, non è ancora finita per Napoli, 14, 15, 18, Ambo e Ambetto, sono gli abbinamenti per Milano, rivediamo l'ultima classifica del 90, poi ho concluso, e rimane tale quale, Cagliari-Napoli-Torino-Venezia, Cagliari-Napoli-Torino-Venezia, ho scelto Torino, per la condizione della lambata contata, e per le 4-5 spie accese per Torino, tutti quei numeri sono accese, e quindi probabilmente Torino, e poi la Venezia, guardate qua, scusate, la situazione del Firenze, questa prossima, vedete, perché quello di Bari va a finire Roma-Firenze, questo di Roma ha già dato, quindi la stessa estrazione del giovedì, questo di Bari, di nuovo Roma-Firenze, Roma ha già dato, la prossima se esce Torino, rimetterò Firenze, guardate le posizioni, questa è Firenze, spero che esca prima Torino-Venezia, e poi, in base a quella che esce adesso, su questa condizione, poi, andremo ad aggiungere Firenze, guardate che bella la situazione del Roma, insieme al Bari, come va a finire, guardate, a ricalcare di nuovo, Milano-Napoli, Milano ha già dato, adesso dovrebbe attendersi a Napoli, e ricordate che Milano-Napoli, sono due bellissime ruote, perché vanno in situazione fra loro, quindi, attenzione, Milano ha già dato, adesso dovrebbe ritornare adesso a Napoli, e questa va a riconfermare, per la terza volta, guardate, una, poi avevamo la, due, vedete, e poi, la terza, quindi, questa ha fatto scaturire Milano, poi, attenzione, ne è uscita fuori un'altra, e un'altra ancora, che è questa, quella del giovedì sera, quindi, Napoli, avete visto, dovrebbe essere la primaria, insieme a quella di Cagliari, quindi, Cagliari, Napoli, e poi, andiamo avanti, ve la faccio rivedere, quindi, Cagliari, Napoli, Torino, dovrebbe essere le primarie, questa Venezia, veramente, sta tornando, un abbraccione a tutti voi, quindi, ho detto tutto, un abbraccione, e, un salottone a tutti voi, mi raccomando, chi è nuovo, sempre, iscrizione alla consiglia, gratuita, tastino rosso, sotto ogni video, e poi, campanelline, per attivare le nuove notifiche video, un abbraccione da Marcus, è tutto, ciao a questa sera, bacioni.